Salute ragazzi e benvenuti in questo video, sono Basho e oggi siamo qui per la prima volta su Fortnite Voglio provare a giocare con voi la modalità sfida Trashikin 2.0 Niente, andiamo Mi mancano ancora un po' di sfide il pass Siamo qui per la prima volta, appunto, mi ha aperto, vabbè, ok Non ho mai fatto video su Fortnite, qua praticamente ho proprio il pass battaglia e di sfide me ne mancano L'inizio con fuci di precisione 2, poi trappole, un'eliminazione con trappola e un'eliminazione con la balestra In questa modalità non si possono fare queste sfide, però volevo provare a portare con voi, appunto, questo tipo di modalità Il bus parte da qua, quindi direi di andare in queste casette qua No, ce n'è uno qua Cos? Cos? Ah, ok Madonna Cioè, ragazzi, la prima volta non è morto Ve lo giuro Altra balestra Oh Jar, buona, buona Lì No 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 Oh, la magona Ho colpito l'albero Non ha colpito nessuno Doveva ricaricare Anche questo Ja, esci Co? Eh? Come mi è ucciso? Vabbè Ah, un attimo Valgono le uccisioni con fuci di precisione? Non lo sapevo Pensavo non valesse Forse solo nelle sfide giornaliere valgono Vabbè E allora ha sbloccato il camminatore nullare Interessante, interessante come cosa Sì, ok, attiviamolo Eh, donna, che lag Mi sembra di vedere qualcuno Forse mi sbaglio Forse mi sbaglio Però non si sa mai Quindi mettiamoci qua dietro per prendere lo scudo Cecchino, altro scudo Lì c'è qualcuno Però non ho ancora spaccato Il fenile Il maneggio più che altro Mi sono credito che è un mega fortino Boh, ci ho provato Sempre stata la kill del secolo Ma, sono due What? Uuuuh 177 metri Che colpo Ok, sta situazione in cui siamo Non è proprio delle migliori Continua a tirare laggate Non va bene Che cazzo vuole fare quello? Ok Ah, sta là su Quello bastardo Che cazzo fa a vedermi? E io quasi quasi me la spigno Quasi quasi Ci provo Dio Cosa? Ma Vabbè Vabbè Ok Tutto c'è stato ignorantissimo Sta arrivando la safe Ma Il fatto è che lui ha messo solo trappole Cioè è stata una cosa bruttissima Io ho fatto una so giocare malissimo Però vabbè Nel dubbio ho fatto una kill col cecchino assurda Alto livello superato Adesso ce ne mancano Due Due di missioni trappole E Balestre Gampo buona Davola usiamo No dai Devo farlo con la balestra Questo Non mi devo far vedere No Si è buttato il gioco Sto bastardo No Dai Oh Headshot Balestra epica Cecchino Jump Mi tendo Tra le bende Non i medichi Tanto che non siamo in team È sempre Meglio Uh Cecchino epico Buono Imiterei anche I culini però Anche se Anche se Anche se Non ancora li possiamo usare al momento Il doppio caccia è proprio forte in questa modalità Io mi tengo il caccia Lì c'è uno Lì c'è uno D'accordo che non mi abbia visto What What No perché Sono stupido Ricarica il caccia Eccolo Oh L'ho iltato Io ho fatto molto male Cos Bravo però Questo era bravo Però Cioè Quel colpo gli entrava Cioè Un attimo dopo sarebbe morto Tutto ciò è Tresciosissimo Cazzo No No Che bastardo Che bastardo Volevo la trappola O è morto Ho paura di sapere Se Se si è morto L'abbia quittà Cazzo 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 No 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 Non puoi dirmi questo Uh La kill Con la balestra Attenzione Incredibile No Il cacchino è andato Fini giù Che palle Ma fammi ricarica le armi No Ce l'avevo sotto Mirino Bella Seconda kill Sta montagnetta Si è stato diventare un po' Richiesta dagli altri Eh Devo prendere la balestra Non l'ho preso Madonna Mi ha fatto malissimo Non l'ho colpito Sono stupido Però Allora Io Un'altra volta Il colpo nel petto No Non è già entrato Però Parte questo Ok Perfetto Per andare a pinacoli Sarà uno stupro Sarà uno stupro Vorrei in arma però Non la trappola Vabbè Quanto ho laggato Mamma mia Eh sì Slarp Scudo Dammi tutto Però Ok Buono Oh Madonna Mi sono cagato in mano Mamma mia No Da dove Che Da dove Oddio Guarda questo dove sta Vabbè Vabbè Siamo fatti un'altra kill Così Random Ma Quella Oh Questa c'aveva già tre kill È veramente forte Ma La kill che ho fatto sul tipo Che era disaramato Povero lui Cioè Ho proprio compassione per lui Ma Mi sono cagato in mano Cioè Obiettivamente Comunque raga Direi che Per questo video Può essere abbastanza Abbiamo fatto comunque Un paio di partite belle Un paio di partite brutte Siamo divertiti Ci vediamo alla prossima